buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere come a mettere a rendita solana come delegarla tramite il wallet solflare ovviamente dopo la sigla andiamo a vedere come mettere a rendita la nostra cripto valuta sol utilizzando questo wallet che si chiama solflare raggiungibile all'indirizzo solflare.com atterrando su questa pagina vediamo con wallet non custodial per solana e possiamo utilizzarlo sia con un accesso al web wallet oppure tramite estensione a chrome tratto una delle funzionalità di questo wallet è che è possibile farlo interagire col nostro legger partiamo comunque con il creare un account andiamo sul web wallet clicchiamo col tasto sinistro e ci appare questa schermata dove noi possiamo andare appunto anche interagire con il nostro legger a questo punto partiamo da zero su create a new wallet e andiamo a inserire una nostra password nella fase successiva andiamo a copiare le nostre 24 parole segrete andiamo a verificarlo nella pagina successiva e ci troveremo davanti a questa semplicissima schermata non vi preoccupate se faccio vedere indirizzi magari chiavi private ok perché questo wallet poi verrà eliminato alla fine del video arrivate questa schermata noi possiamo ricevere la nostra valuta sol la possiamo inviare a wallet esterno un change qua sotto abbiamo il nostro quantitativo di solana e nel caso che avremo il nostro conto valore in dollari e come vedete a questa schermata possiamo andare a mettere a rendita al 7,25 per cento in api la nostra valuta solana questo wallet oltre a supportare la rendita di solana prossimamente si utilizzerà per interfacciarsi con la defaica appunto girerà sulla cena di sol oltre alla parte che vi sto facendo vedere web wallet vi consiglio di scaricare l'estensione che avrà la stessa funzione che usiamo abitualmente con metamask ovviamente sarà interfacciata solo per la rete solana qualora avessimo dei solana all'interno di questo portafoglio per andare a mettere a rendita è semplicissimo basterà andare su stake solana andare a inserire l'importo che vogliamo depositare per la messa a rendita e andare a scegliere un validatore e delegare i nostri sol i validatori sono presenti nella voce sotto alla mount dove c'è un menu a tendina dove noi possiamo andare a selezionare uno dei validatori che ci interessa maggiormente per andare a capire meglio come selezionare i validatori bisogna spostarci su un altro applicativo che viene chiamato solana beach e lascerò comunque tutti i link in descrizione come di consueto arrivati a questa schermata alla prima voce che vediamo selezionata è la voce dashboard noi a questo punto dovremmo andare alla voce validatori questa schermata cosa ci va a indicare ci va a indicare questo avviso che dal validatore numero uno al validatore numero 20 che sono quelli più utilizzati che detengono la maggior parte degli solana a messi a rendita potrebbero causare un rallentamento del network e quindi sarebbe meglio andare a delegare i nostri sol con i validatori sottostanti andando a selezionare uno dei validatori qua sotto andremo così oltre a alleggerire il network a decentralizzare un pochino di più la pressione di sol all'interno della validazione aprendo l'elenco dei validatori vediamo che avrà steak detiene il 3,7 per cento di tutto lo steak di solana e ha una commissione del 7 per cento attenzione la commissione non è quanto ci viene pagato per la rendita ma bensì su tutto il nostro guadagno della messa rendita ever steak si tratterà il 7 per cento cliccando sul validatore si apre questa schermata dove c'è una sorta di resoconto del validatore stesso andiamo a vedere il sito la commissione e lo slot success rate questo valore è importantissimo che perché più alto è meglio è più alta questa percentuale significa che ci sono maggiori probabilità che venga scelto per la risoluzione del nodo diciamo che un buon validatore dal 30 per cento in su come è successo di rete è veramente già una buona incentivazione andare a delegare i nostri solana all'interno di quel validatore possiamo inoltre mettere in ordine ad esempio per commissioni per andare a vedere i validatori magari con una commissione di uscita minore rispetto ad altri o per percentuale cumulativa di steak all'interno dei validatori stessi ci sono dei validatori come possiamo vedere qua in sovraimpressione che hanno anche commissioni zero magari sono appena usciti come validatori vogliono incentivare gli utenti a delegare i loro solana e come vedete questo validatore avrà commissione zero per tutto il 2021 per esempio lo avrete già capito da questa schermata solana beach ci dà una mano a scegliere il validatore anzi a come non scegliere un determinato validatore quindi evitate di andare a selezionare questi validatori con le scritte rosse offline for o il tag delinquente mi raccomando non andate a delegare i vostri solana all'interno di queste pool cliccando come abbiamo visto su un validatore ci ha per la schermata con resoconto e la possibilità di andare a mettere a rendita direttamente da questo portale in alternativa ci spostiamo di nuovo su sol fler tanto scegliamo magari un validatore cerchiamo di ricordarci un nome come ad esempio c'è in node tech ci spostiamo su sol fler alla voce staking qua possiamo andare a scegliere il validatore cercandolo dal meno a tendina oppure andando a scrivere il suo nome selezionando il validatore andiamo a vedere i dati che abbiamo visto prima la percentuale di steche le fi quanti solana sono stati al momento delegati e la percentuale di skip block dopodiché selezioniamo il nostro a montare clicchiamo su ste che andiamo a mettere a rendita i nostri solana mi raccomando per fare tutte queste operazioni bisogna avere una porzione di solana dedicata al pagamento delle fi quindi se abbiamo ad esempio due solana da mettere a rendita non andiamo a metterli completamente perché sennò non abbiamo più il gas per le transazioni magari mettiamo un solana e 8 un'altra cosa prima di mettere a rendita su sol fler o qualsiasi altro wallet che permette la rendita di solana andata sempre a dare un'occhiata agli exchange per vedere se permettono lo staking di solana ea quale percentuali perché magari vi conviene più mette la rendita su un exchange piuttosto che su un wallet del genere bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro ed unire la nostra community telegram per restare aggiornato sulle novità che succedono tutti i giorni nel mondo delle cripto valute della block chain per avere l'assistenza di cui avete bisogno e per fare due chiacchiere insieme a noi noi ci vediamo domani ciao a tutti invita a seguirmi negli altri canali social che utilizzo li trovate nella home page del canale youtube in alta destra vedete l'icona telegram facebook ed instagram cliccando su telegram atterrerete sulla nostra community dove potete fare due chiacchiere insieme a noi e richiedere assistenza e scambiare due parole con tutta la community cliccando su instagram si aprirà la pagina del mio profilo e cliccando invece sull'icona di facebook atterrerete sul nostro gruppo aperto da pochissimo quindi se avete piacere e vi ringrazio anticipatamente uniti vi anche sugli altri nostri social ma in particolare ci tengo molto alla community telegram dove possiamo veramente essere in contatto tutti insieme e darci una mano a vicenda e un supporto continuo